SIGLA Va bene, fate i bravi. E se non potete fare i bravi... Non fatevi beccare. Vi voglio bene, ragazzi. Vi voglio bene anche io, mamma. Ok. Chi mi sa dire la derivata di X? Che succede? Avete visto anche voi? Oh, mio Dio. Santo cielo, mio Dio. No! Che cazzo! Alle 3.17, il satellite Odyssey ha ricevuto le immagini di un oggetto in movimento che superava Marte. È sopra di noi. Voglio vedere! Allora non sapevo che sarebbe stato l'ultimo giorno normale della mia vita. Riteniamo che un pericolo imminente minacci questa zona. Va bene, resta con tua sorella. Le onde sono cominciate. È l'inizio. Attacchi coordinati sulle nostre aree metropolitane. La prima onda ha colpito tutta la rete elettrica. Poi la seconda ha causato un terremoto. Talmente potente da far tremare l'intero pianeta. Sì, è qui! Ti ho preso. Con la terza onda si sono diffuse epidemie in tutto il mondo. Con la quarta onda loro sono arrivati. Gli altri hanno la capacità di vivere nel corpo umano. Potrebbero essere ovunque. Non possiamo più fidarci di nessuno. Gli altri hanno preso mio fratello e me lo voglio riprendere. Imparerete a pensare, muovervi e combattere come soldati. Voglio essere pronta. Non andrai molto lontano da sola. Prendi la pistola e sposta la mia mano. Bene. Come li combattiamo se non sappiamo cosa sono? Cosa sei tu? Mi hanno preso tutto. Arriva mia sorella. Sam! Questo è il nostro mondo. Questa è la nostra casa. Muovetevi! La nostra unica scelta è riprendercela. Mettila giù! So che sei umana. Come lo sai? Perché se fossi una di loro mi avresti già sparato. So che sei umana.